Exponi le tue idee è la competizione educativa che WeWork promuove dal 2015 in tutta Italia. Il nostro obiettivo è quello di far emergere quelle competenze, quelle capacità che i nostri ragazzi hanno ma non sanno a volte nemmeno di avere. La capacità di parlare in pubblico, la capacità di argomentare, la capacità di controbattere ad un'argomentazione di un'altra fonte. Ebbene, tutte queste capacità a volte nella nostra scuola non vengono valorizzate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.